Un'entusiasmante manifestazione in motocross si è tenuta nel crossodromo privato di Campo di Fano. Diciamo subito che la manifestazione ha uno scopo benefico, cioè il ricavato verrà devoluto interamente ai terremotati di Amatrice. Bella gara sportiva di grande impegno agonistico, forse unica finora in Valle Peligna. È stata organizzata dal team MC Pardir Racing che esercita anche attività di scuola di motocross. L'abbiamo organizzata in collaborazione con i ragazzi qui del motoclub di Campo di Fano. Siamo stati aiutati da tante aziende qui del posto. La maggior parte sono piloti che partecipano a campionati nazionali e territoriali. Tra l'altro abbiamo cinque piloti che sono freschi campioni italiani negli anni precedenti. I vari Paolo Ricciutelli, Gimbi De Nicola e Bruno Di Biase. Sono ragazzi di un certo peso a livello nazionale. Ed è bellissimo averli qua in questo contesto piccolo, ristretto, ma comunque bello in un ambiente a due passi dalla montagna. Veramente bellissimo. I partecipanti ci sono? Saremo intorno a 50 piloti. Che per essere una gara territoriale, comunque non in un impianto stabile, in un impianto appena creato, credo che sia già un buon numero. Il nostro team è nato addirittura 40 anni fa. Inizialmente un po' per gioco, correvo io e quindi mi dilettavo. Pian pianino la cosa mi ha preso a piacere sempre di più e ho visto che andando avanti la cosa che più mi attirava era il fatto di fare scuola, di trasmettere un qualche cosa. Questa è una cosa che mi hanno raccontato chi è più bravo di me, è una cosa innata e quindi ne sono contento. Durante gli anni abbiamo vinto 35 titoli italiani. Per essere una cosa presa per scherzo, oggi devo dire che ne siamo veramente fieri. Il carosello veloce di Moto Rombandi ha vinto l'attenzione del pubblico. La gara prevedeva anche la partecipazione di piccoli a partire dai 7 anni fino alle categorie più impegnative e più avanzate. Finalmente siamo riusciti, dopo tanti anni, a portare un po' di motocross qui nella Valle Beligna. Io sono 20 anni di motocross che pratico. Il mio sogno è stato sempre quello di avvicinare i giovanissimi a questo sport che è meraviglioso, che non conosce quasi nessuno nella zona. Ma veramente è uno sport che vale perché appassiona tantissimo i giovani e i sacrifici che fanno per praticarlo nella vita si ripete sempre. È una cosa molto bella. Fabrizio Di Gregorio è uno sponsor. Noi siamo un'azienda del territorio FGM Scale e produciamo scale retrattili per l'interno. Ci siamo interessati a questa manifestazione in quanto coadiuvata e ben coordinata con la famiglia Pardi che da anni gestisce una logistica e una scuola di motocross. Si partono da categorie mini fino a categorie professionisti. Noi siamo intervenuti per passione allo sport personale ma siamo intervenuti per premiare l'iniziativa che è coadiuvata da loro ma anche presente in quanto la pista è a Campo di Fano. Crediamo in questa cosa, la vogliamo portare avanti. Un unico motto, divertirsi in tutta sicurezza. Questi i risultati pervenuti. Categoria Pit Bike, Lazzari, Dorazio, Lintozzi, Piras, Parti. Categoria Mini 65, Mancini, Zappacosta, Di Gian Domenico, De Luca, Ancelucci e Di Gregorio.